Sono lo showroom Flexform di MEDA, Matteo Galimberti, responsabile commerciale Italia. Io sono Elisa Velluto, responsabile della comunicazione di Flexform. Volevamo raccontarvi la peculiarità di Flexform. Flexform ha due peculiarità importanti, la famiglia, i dipendenti e la comunicazione. Per quanto riguarda la comunicazione, Elisa racconta... Racconto che l'azienda ha uno storico importantissimo perché fin dall'inizio ha creduto non soltanto nella necessità di produrre qualità ma anche nella necessità di comunicarla, quindi si abbalsa nel corso del tempo dei migliori fotografi e oggi come oggi ha uno storico molto importante nel modo di comunicare l'azienda. C'è stato veramente un grande lavoro, oltre che sul prodotto. La famiglia invece ha lavorato molto sul prodotto. La famiglia ha lavorato molto sul prodotto, è riuscita a lavorare grazie alla grande collaborazione che c'è stata e c'è ancora e sta avvenendo all'interno della nostra azienda, dove per noi il motore fondamentale dell'azienda è il dipendente con il quale abbiamo un rapporto veramente stretto, è colui che ci permette di poter comunicare Flexon nel mondo e con lui tutti gli anni cerchiamo di creare anche dei rapporti che vanno oltre al lavoro, che sono rapporti amichevoli, che ci permettono poi insieme di unirci e di sostenere il progetto comune che fa parte dell'azienda e che viene esportato in tutto il mondo.